Eh? Prego. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie a tutte le categorie che stanno intervenendo a questo presidio permanente organizzato da Fratelli d'Italia per dare voce ai tanti, troppi italiani massacrati dai decreti del Governo Conte che non hanno risposte per avere certezze sul loro futuro. Mentre noi parliamo le serrande dei ristoranti, dei bar che ci sono qui intorno stanno chiudendo per delle scelte che non abbiamo condiviso per la incapacità di dare risposte a cittadini ai quali lo Stato azzera o diminuisce per decreto le entrate senza poi preoccuparsi di coprire i costi fissi. Perché il decreto ristori che noi abbiamo visto presentato nei giorni scorsi è una risposta assolutamente e totalmente insufficiente, sul quale il Governo ha mentito. Avevano detto che avrebbero immaginato contributi pari al 100 o al 200% del calo del fatturato di queste attività e poi ci siamo ritrovati con un decreto che forse stanzia il 100-200% di quanto previsto nel bonus del decreto rilancio. E il bonus del decreto rilancio tutti gli imprenditori sanno che è assolutamente insufficiente. Uno Stato giusto che decide di chiuderti per decreto deve aiutarti a pagare le utenze, gli affitti, le tasse, i mutui, i prestiti. Deve aiutarti sui costi fissi. La scelta che è stata fatta dal Governo di dire a queste attività chiudete dopo le 18. Di fatto costringendo queste attività a mantenere i loro costi fissi ma non chiudendole completamente per non doverle ristorare completamente è una condanna a morte annunciata per centinaia di migliaia di persone economicamente parlando ed è intollerabile. È intollerabile in primo luogo perché le scelte di questo Governo sono state scelte sbagliate. Nessuno tra noi, e vi ringrazio anche per la compostezza di questa manifestazione, per il distanziamento, per le mascherine che indossate, nessuno di noi si è mai tirato indietro rispetto alla necessità di combattere il coronavirus, di combattere il contagio, di fermare il contagio. Ma se vuoi fermare il contagio la prima cosa che devi fare è potenziare il sistema dei trasporti pubblici perché se invece mi dici che chiudi i ristoranti alle 18 per decongestionare i mezzi pubblici stai mentendo. I mezzi pubblici non sono pieni la sera all'uscita dei ristoranti, sono pieni la mattina quando si entra nelle scuole e negli uffici. E se il Governo oggi scarica sui ristoratori è perché nonostante abbia avuto più di 100 miliardi di euro da spendere e circa 8 mesi di pieni poteri non è stato in grado di fare le cose importanti che c'erano da fare. Fratelli d'Italia ha fatto proposte a 360 gradi su queste materie, abbiamo proposto il potenziamento dei mezzi pubblici con l'utilizzo dei pullman privati, con i taxi collettivi, con gli NCC, con le insanificazioni. Abbiamo parlato di scuola quando il Ministro Azzolina, ieri il Presidente Conte in aula ha citato Einstein. Avrei voluto rispondere che è un po' distonico per qualcuno che mette a fare il Ministro dell'istruzione la Azzolina. Il Ministro Azzolina parlava dei banchi a rotelle e noi invece chiedevamo termoscanner all'ingresso, chiedevamo tenso strutture per allargare gli spazi esterni degli istituti scolastici, chiedevamo il coinvolgimento del privato che avrebbe potuto e voluto offrire con dei patti educativi gli spazi che aveva a disposizione. Anche qui chiedevamo il potenziamento delle cattedre e della carenza di organico scorrendo le graduatorie piuttosto che immaginando futuri concorsi, perché capirete che stipare qualche decina di migliaia di persone dentro una stanza in questo periodo non è esattamente il modo migliore per combattere il Covid. Sono tutte proposte che Fratelli d'Italia ha formalizzato su questi temi, come sulla sanità. Ricordo che le regioni hanno mandato al Governo italiano le loro necessità per il potenziamento della sanità nel mese di luglio, ma il mitico supercommissario Arcuri ha attivato i bandi solamente il 9 di ottobre. Di grazia, ma in tutti i mesi estivi, esattamente, atteso che tutti sapevano che ci sarebbe stata una seconda ondata, che cosa avete fatto? Purtroppo noi lo sappiamo. Io l'ho detto ieri a Montecitorio, a Giuseppe Conte, basta che vi andate a scorgere i giornali del periodo estivo. Parlavano di legge elettorale, parlavano di abolire i decreti sicurezza, quando l'unica cosa che c'era da fare era difendere i confini, perché anche questo è intollerabile. A giugno il Governo si vantava di essere riuscito a fermare il contagio in Italia, quando il contagio ancora galoppava nel resto d'Europa. E per carità, era anche vero e giusto. Ma allora perché noi non abbiamo fatto una difesa dei nostri confini con tamponi all'ingresso per chiunque entrava in Italia, possessero italiani, turisti, immigrati regolari? Perché non abbiamo fermato l'immigrazione clandestina? Perché non abbiamo impedito che gli immigrati clandestini scappassero dai centri d'accoglienza violando la quarantena? Tutte cose che abbiamo detto per tutta l'estate. Ma loro si stavano occupando di altro. E i decreti sicurezza, poi Conte a un certo punto disse adesso che abbiamo sistemato i decreti sicurezza, facciamo lo iussoli. E poi appunto la legge elettorale, e poi l'omofobia, che è arrivata in aula in questi giorni, una discussione lunare. Consentitemi, nell'emergenza nella quale ci troviamo, l'ho chiesto ai colleghi della maggioranza, ma siete sicuri che gli omosessuali di questa nazione non preferirebbero che lavoraste sulla difesa del loro lavoro e delle loro attività che stanno chiudendo, esattamente come quelle di tutti gli altri italiani, mentre voi parlate di cose che non c'entrano niente. E poi purtroppo l'abbiamo visti occuparsi delle nomine, delle poltrone, delle discussioni interne alla maggioranza, di tutte cose che non c'entravano niente con l'emergenza. Per questo oggi è imperdonabile quello che sta accadendo. Perché il Governo scarica le sue mancanze su persone perfettamente innocenti, che lavoravano, che vivevano del loro lavoro, che allo Stato non chiedevano niente e che oggi si ritrovano con un pugno di mosche in mano e con un Governo che gli dice bravo, adesso arrangiati. Uno Stato serio non fa così. E io penso che la ragione per la quale il Governo Conte, i Cinque Stelle e il PD non capiscono le persone che scendono in piazza perché vogliono lavorare è perché magari li capirebbero se quelli chiedessero il reddito di cittadinanza, che è quello che a loro piace dare alle persone. Invece noi chiediamo lavoro, la libertà e la dignità che solo il lavoro può darti. E non bisogna nascondersi dietro la violenza di alcuni imbecilli nelle manifestazioni che fanno di fatto un favore al Governo perché l'abbiamo visto dai tempi della strategia della tensione. Non bisogna nascondersi. La piazza di oggi lo dimostra. Qui ci sono centinaia di persone e non ci sono problemi. E' la dimostrazione che c'è un dissenso diffuso, che c'è un disagio, una sofferenza che la politica deve sapere interpretare se è capace di fare il suo lavoro. Noi la nostra parte la facciamo. Come Fratelli d'Italia, solo da marzo a oggi abbiamo presentato circa 2000 proposte. Oggi leggo su Repubblica addirittura la proposta di uno studio, di una realtà molto autorevole che dice che la priorità dovrebbe essere mettere in sicurezza le fasce più esposte. Vi ricorda qualcosa? Perché Fratelli d'Italia lo propone da qualche mese. Se è vero come è vero che ci si dice, ci dice l'Istituto Superiore di Sanità, che la media dei decessi da coronavirus e di persone che hanno 80 anni con più di tre patologie pregresse, ma allora se questi dati sono veri e lo devono essere se è l'Istituto Superiore di Sanità, perché noi non aiutiamo le persone maggiormente a rischio a uscire di casa il meno possibile garantendo ad esempio assistenza domiciliare? Perché è un paradosso che chiudiamo le palestre a gente che ha 20 anni e poi costringiamo gli anziani a prendere l'autobus stipandosi a rischiare di morire perché nessuno li aiuta. Ma che ci vuole? Un genio! Io non sono un virologo, non sono un esperto, non ho il CTS, ci siamo arrivati quattro mesi fa e nessuno ci ha ascoltato, perché non è normale, perché io parlo con mia suocera che ha quasi 80 anni e cardiopatica e mi dice ho paura perché devo andare a fare il vaccino antinfluenzale e non voglio uscire di casa e nessuno le dà una mano, ma non possiamo partire da lì invece di chiudere alle 18 i ristoranti e poi se non funziona faremo la cosa successiva, ma si deve partire dalle cose più importanti, questo governo non l'ha saputo fare, questo governo non si è saputo assumere le sue responsabilità e poi ha scaricato su quelli che considerava sacrificabili e lo hanno detto loro, perché attività sacrificabili è come le ha definite Giuseppe Conte nella riunione con i capi gruppo nella quale spiegava la chiusura di queste imprese, sacrificabili per il governo forse, non per chi ci vive, non per chi in quelle attività ci ha messo una vita intera, non per chi l'ha ereditata dalle proprie famiglie e con quell'eredità perde un pezzo della sua storia, per quella gente lì non sono sacrificabili e noi non le vogliamo sacrificare e uno Stato giusto non le sacrifica. E anche questo ho detto ieri a Montecitorio, dicono, ah, le regie della criminalità organizzata nelle manifestazioni, attenzione perché così una mano alla criminalità organizzata gliela sta dando proprio il governo, perché quelle attività messe in ginocchio nelle mani della criminalità organizzata finiranno, di chi si presenterà con liquidità facile, perché lo Stato non c'è. E poi, voglio dire, sarebbe anche abbastanza facile rispondere a Giuseppe Conte che se fosse così questa regia della criminalità organizzata forse è stata resa più facile anche dalla liberazione di centinaia di boss mafiosi che sono stati liberati da questo governo con la scusa del Covid. Ieri altre 5.000 persone uscite dalle carceri, perché nelle carceri sono troppo vicine, tutte priorità sbagliate. Ecco, noi abbiamo fatto su tutte queste cose, non vi voglio ammorbare davvero migliaia di proposte, se vi andate a riprendere anche sui nostri siti, sui nostri social c'è tutto il materiale, quello che abbiamo proposto in questi mesi, vi accorgerete che abbiamo lavorato nonostante fossimo all'opposizione come se ci trovassimo al governo, con la stessa responsabilità, con la stessa serietà, con la stessa dedizione, perché noi siamo patrioti, siamo rappresentanti del popolo italiano e quando l'Italia è in difficoltà noi ci siamo. Abbiamo tentato di dare una mano, non perché volessimo dare una mano a questo governo che prima va a casa e meglio è, ma perché siamo sempre pronti per dare una mano alla nostra nazione. Purtroppo non siamo stati ascoltati, ma le proposte abbiamo continuato a farle e continueremo a farle, così come continueremo a stare nelle piazze, così come in Parlamento a dare voce alla nostra nazione, a dare voce alle cose che ci paiono sbagliate e a quelle che ci paiono giuste. E speriamo che qualcuno, un giorno, invece di venirci a insultare perché noi siamo irresponsabili e cretinate varie, ci risponda nel merito, perché nel merito non abbiamo mai avuto risposte sulle proposte serie che facevamo. Vi dico l'ultima e chiudo. C'è il caos tamponi. Al drive-in qui ti fai 3-4 ore di fila e quando arrivi se non hai la penna ti rimandano indietro perché devi avere la penna tua, solo che prima non te l'aveva detto nessuno. C'è gente che aspetta giorni, settimane, le classi messe in quarantena. Io lo sperimento nella mia vita quotidiana. Mamme nel caos totale per riuscire a fare i tamponi a questi figli con tempi estremamente lunghi. Ma una banalità. Consentire alle farmacie la rete più capillare d'Italia esistono in ogni comune di fare i tamponi e i test. Sarebbe stato così difficile e avrebbe o non avrebbe velocizzato la possibilità di testare e di individuare i focolai che c'erano. Vi sembra una proposta stupida? A me pare una proposta di buonsenso. Ma nessuno l'ha mai valutata perché nessuno l'ha mai letta. Solo che noi l'avevamo scritta. Continueremo a fare questo lavoro, continueremo a batterci, continueremo a fare tutto quello che possiamo fare per tirare fuori l'Italia da questa che non è un'emergenza. Perché emergenza significa situazione imprevista. Mentre questo era perfettamente previsto e annunciato, questa è una calamità, anzi sono due, il Covid e il governo Conte. Due calamità che insieme si abbattono su di noi. E quando faremo del nostro meglio per portare tutte queste nostre proposte, quelle che ci state raccontando e portando, vi ringrazio davvero per questa disponibilità in questi giorni, in queste ore, perché non abbiamo la presunzione di avere le risposte a tutte le domande, spesso confrontandosi su un settore specifico. Le persone dicono cose di buonsenso, noi le trasformiamo in proposte, le portiamo in Parlamento. È esattamente quello, è esattamente il compito di un parlamentare, il compito di un partito politico. Fare il tramite tra le persone e il palazzo. Cercare di rappresentare così il popolo. Noi lo facciamo ogni giorno e speriamo che questo disastro si riesca a fermare, che si riesca a fermare il Covid e appena avremo fermato il Covid cerchiamo di fermare l'altro disastro che è il governo Conte. Grazie a voi e buonasera. Grazie a Giorgia Meloni, grazie di essere tornato qui a Piazza Capranica. È da oggi pomeriggio che stiamo sentendo, ascoltando le categorie. Vi ricordo di mantenere, come sempre, il distanziamento in piazza. Andiamo avanti, Isabella, perché è da oggi pomeriggio che abbiamo sentito sociale, sport, rappresentanti delle professioni, ristorazione. E a proposito di questo io cerco tra le persone Alessandro Circello, eccolo qua, della Federazione Italiana Cuochi. Alessandro, prego, il microfono è tuo, Piazza Capranica, il presidio di Pratale d'Italia. Sono a tua disposizione. Bene, bene. In questi giorni abbiamo visto un po' di cuochi nelle piazze, noi preferivamo stare in cucina o a volte nelle piazze scendiamo per fare qualche manicaretto gastronomico. Beh, in questi giorni chiaramente chiudere alle 18 i ristoranti è una morte subito, nel senso che chiudere alle 18 è come non aprire per non avere degli sgravi e dei aiuti subito. La mattina chiaramente la gente è smart working, i ristoranti e i bar non lavorano perché mancano i turisti italiani e mancano i turisti stranieri. Quindi da questo punto di vista servirebbe in futuro un aiuto economico, una riforma economica e fiscale, duratura permanente e non una piccola mancia come sta arrivando adesso. Chiaramente anche portare l'IVAM per dire un'idea degli ingredienti che noi acquistiamo, magari tutti fissi e stabili al 4%. Il 14 novembre si pagano gli F23 e gli F24, quindi pagare le tasse allo Stato in questo momento non riescono, ma non riusciranno, meno il primo gennaio, perché il primo gennaio come fanno a pagare le tasse su un qualcosa che non avranno incassato in questi giorni. Quindi tutto questo è di serie criticità per un comparto, la ristorazione che è il 13% del PIL italiano, ma soprattutto che ha un indotto sul comparto enogastronomico italiano, sulla frutta e verdura buona, sana e gustosa che si butta, sui vini, i pesci, le carni che non vendono i fornitori perché il loro 70% è per il nostro settore orega del full service. E quindi tutto questo impatta sull'Italia, su ciò che rappresenta anche il bello e il buono dell'Italia in giro per il mondo che la ristorazione italiana, tanti turisti vengono in Italia anche per mangiare bene, mangiare sano, oltre che per vedere le nostre bellezze architettoniche, torneranno in Italia secondo me prima o poi. Però dobbiamo arrivare, diciamo, in maniera, dobbiamo cercare di arrivare vivi a questa criticità. Grazie Alessandro, grazie davvero. Allora, Isabella, prego. Eccoci, allora, siamo passati dal mondo dello sport, le palestre, a quello della ristorazione e c'è un altro buco nero enorme che è quello socio-sanitario con tutti i ritardi che anche Giorgia ci ricordava. E quindi chiedo a Katia Tanne, coordinatrice infermieristica, se può portare la sua testimonianza e con la sua testimonianza quella di un settore e voglio ricordare che erano previsti dei bandi anche per stabilizzare queste figure e anche rispetto a questo l'esecutivo ha dato il peggio di sé con ritardi e precariato. Vieni, prego Katia. Buonasera, grazie. Buonasera. L'esempio, sono l'esempio della prova provata che Fratelli d'Italia, come ha detto prima la nostra Presidente, Ascolta il Popolo. Io sono un'infermiera coordinatrice di un ospedale noto di Roma e che vive quotidianamente la destabilizzazione della stabilizzazione, diciamo. Siamo tutti destabilizzati da questa mediocrità che ci circonda. che ci circonda